Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuova edizione del nostro notiziario in diretta su DNewsTV in apertura. Andiamo subito alla Dacia Arena dove vedo pronto Jacopo Romeo. Buongiorno, tutta questa mattina stiamo festeggiando la bella vittoria dell'Udinese ai Dani del Milan, ieri all'esordio in campionato e vedo Jacopo pronto con un ospite. A te Jacopo la linea. Buongiorno a te Valentina, buongiorno ai nostri telespettatori e benvenuto anche al responsabile area tecnica Pierpaolo Marino. Direttore, è davvero un buongiorno per tutta l'Udinese perché ieri è iniziato col botto il campionato davanti a un trionfo di pubblico, anche un trionfo di squadra. Una bellissima vittoria per 1-0 contro il Milan che ha restituito anche la giusta misura della bontà della squadra attraverso la prestazione, nonostante magari anche tante chiacchiere. Certo, ci sono vari elementi di cui essere soddisfatti, a partire dalla mentalità con cui ha giocato la squadra perché se non hai mentalità non riesci a colmare il gap con le grandi squadre, poi al senso tattico della partita che ha impresso Tudor non sbagliando nemmeno un dettaglio e poi naturalmente c'è il risultato che ci fa crescere in autostima. Anche se oggi è lunedì, le feste sono finite e ora si pensa a voltare pagine, a non vanificare quanto di buono è stato fatto cercando di approcciare bene la partita col Parma. E' stata anche una partita importante per tanti elementi, mister Tudor ha detto che ha vinto il gruppo, però dei giocatori, i nuovi soprattutto, Becao, Iaialo, ma anche chi è qui da tanti anni, Fofanac, che è poi uscito per una botta, hanno fatto davvero molto bene e si è dimostrato di come si sia subito creata questa chimica tra vecchi e nuovi. Sì, perché poi in effetti a un certo punto della partita c'è stata mezza squadra nuova in campo perché avevamo quattro undicesimi, tolto il portiere che è un giocatore in movimento, che non è un giocatore in movimento, quattro su dieci giocatori in movimento significa mezza squadra nuova. Questo vuol dire che ci siamo sicuramente rinforzati con i cinque acquisti che abbiamo fatto e avremo sicuramente potenzialità superiori a quelle che avevamo l'anno scorso, che pure erano delle buone potenzialità, forse non sfruttate appieno come nel periodo di Tudor. Ecco, giocatori che c'erano l'anno scorso, tutti molto forti e che naturalmente sono entrati in ultima settimana di mercato, sono al centro di interessamenti, di chiacchiere, anche di interpretazioni a volte un po' particolari. Ieri si è parlato anche della panchina di De Paul, il mister ha spiegato che era una scelta assolutamente tecnica in un l'altro, ma si scrive, si legge di tante voci riguardo anche altri elementi di questa rosa, che per carità è anche positivo perché sono giocatori forti, sono appetiti anche dai club blasonati. Sì, effettivamente il mercato aperto con le partite di campionato in corso crea queste problematiche e devo dire che si legge la qualunque sui giornali, ma anche attraverso quello che si ascolta dalle televisioni e dai media in generale. Ad esempio sento tanto parlare di questo Torino che vorrebbe Fofanà, noi non l'ha mai richiesto, il giocatore non ha mai mostrato predilezione particolare per questo tipo di destinazione, quindi tutto, ma faccio un esempio perché Fofanà-Torino proprio è una cosa che non è mai stata in piedi. Grazie, grazie mille al direttore Pierpaolo Marino, linea che ritorna a te Valentina. Grazie Jacopo, il momento quindi questo anche di fare un po' il punto sul mercato, è stato molto preciso il direttore tecnico dell'area tecnica nello spiegare quali sono le situazioni che coinvolgono la squadra e anche nel fare la sua analisi in relazione alla gara di ieri. Torneremo fra poco a parlare di sport, andremo a sentire ancora la voce di Attilio Tessere, il mister del Porderone che questa sera esordisce la Dacia Arena alle ore 21 in Serie B, ma adesso invece ci spostiamo in città perché ha esordito oggi il nuovo bus navetta, la nuova corsa dedicata al centro cittadino, una sperimentazione della SAF che dall'ospedale va fino in centro e dalla stazione fino in via Vittorio Veneto, serve a sostituire in parte la linea 1, ma non ha avuto per adesso molto successo, è andato a vedere come funziona. Matteo Macuglia. Sette passeggeri dall'inizio del servizio alle 8.30 di questa mattina, una partenza non proprio scoppiettante per la nuova linea, la B1, inaugurata proprio oggi per collegare la stazione al centro cittadino e il centro all'ospedale Santa Maria della Misericordia, in servizio da oggi fino all'11 settembre. Poca pubblicità, fatta eccezione per quella sui quotidiani, è una tratta non proprio azzeccatissima. Questi gli elementi al centro del flop del nuovo tragitto che dura circa 5 minuti, poco interessante per gli utenti. La domanda delle persone che salgono alla fermata della stazione dei treni, incuriosite e incerte per quel B che segue l'1, sale e chiede ma va in ospedale e l'autista non può che spiegare le due tratte, stazione via Vittorio Veneto, piazza San Cristoforo, ospedale di Udine. L'hanno scritto un paio di volte, non hanno messo gli orari se non ricordo male, però il tragitto c'era ed era... inizialmente pensavo andassi in ospedale, invece un altro che viene dall'ospedale va in centro. Lo scopo è portare la gente in centro. Un tentativo, quello di Saf Udine, è di ricollegare il centro cittadino spaccato dai lavori in via Mercato Vecchio e via Aquileia. Tra i dubbi sulla nuova tratta, anche i passaggi non frequentissimi. Uno ogni mezz'ora. Preferisco prendere l'uno normale, così vado direttamente. Anche perché questo parte ogni mezz'ora, mi pare. Quindi l'ospedale va ogni 5 minuti. Questa mattina vi abbiamo raccontato anche le novità relative al nuovo concerto di Giovanotti a Lignano, il Giova Beach Party, che si terrà il 28 di agosto. È stata data una conferenza stampa in questura a Udine, dove c'è la nostra Monica Nardini, che ha fatto proprio il punto su quelle che sono le direttive, le indicazioni per godere al meglio di questo spettacolo. Vediamo. Spetti organizzativi in vista del concerto di mercoledì di Giovanotti. Dunque, iniziamo da qui, vicequestore. Cosa c'è da fare? Come bisogna muoversi? Quali consigli da dare ai nostri telespettatori? Dunque, il programma, la scaletta della seconda tappa del Giova Beach Party ricalcherà la scaletta della prima. Quindi i cancelli verranno aperti alle 14, i primi spettacoli inizieranno alle 16 per protrarsi poi fino a tarda serata con l'evento principale. I punti d'accesso ricordiamo quali saranno? I punti d'accesso sono esattamente quelli dell'altra volta, quindi l'ingresso dalla parte della sacca e quello dalla parte opposta del villaggio Getor. Avete lanciato un appello per consentire un deflusso agevole, in sicurezza. In tal senso, voi cosa consigliamo? Sì, allora a tutti quelli che parteciperanno, che saranno presenti nell'area concerto, consigliamo al termine del concerto di uscire in modo ordinato, con calma. Quelli che sono il pubblico che sarà dalla parte, rispetto all'asse mediana del concerto, dalla parte del mare potrà utilizzare i bypass che sono sulla battigia e l'altra parte del pubblico, verso il villaggio, potrà uscire dalla pista ciclabile. Ritornando all'entrata, ovviamente l'appello è anche di arrivare per tempo, di agevorare i controlli, ci saranno metal detector, oggetti che non sarà consentito portare ovviamente? Assolutamente, è importante arrivare per tempo per non accalcarsi. I controlli saranno mirati, effettuati da personale sia di sicurezza, assistito da personale di polizia e saranno effettuati anche con metal detector. Raccomandiamo di non portare contenitori a pressione, bombolette o vaporizzatori per cui non è consentito assolutamente l'accesso. Queste le indicazioni quindi per la festa, il Jova Beach Party, nella sua seconda puntata. L'organizzazione di questa conferenza stava però è servita anche a fare il punto su quella che è la situazione del posto di polizia di Lignano. Sentiamo un bilancio allora dell'attività. I punti salienti del bilancio di quest'anno del posto temporaneo di polizia locale a Lignano-Sabbiadoro per l'estate? Allora anche quest'anno come tutti gli anni abbiamo aperto il posto temporaneo della polizia di Stato a Lignano-Sabbiadoro che ha visto impegnati una ventina di agenti della polizia di Stato ogni giorno su tutti i quadranti orari, personale della questura di Udine, dei commissariati distaccati di Cividale del Friuli e di Tolmezzo e personale aggregato da altri uffici della Polizia di Stato. Il bilancio è sicuramente positivo. Con il personale e le auto impegnate abbiamo potuto concorrere nei servizi di ordine pubblico che come sapete a Lignano si susseguono quotidianamente e quindi parliamo di grandi concerti, pensiamo a Vascorossi, a Giovanotti ma altri eventi importanti come la Color Run che ha visto 10.000 partecipanti come gli spettacoli delle faccette ricolori e continuare anche nell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità. Noi avevamo una volante impegnata in ogni quadrante orario volanti che hanno non soltanto appunto garantito vicinanza alla cittadinanza ma anche attività di polizia giudiziaria che ha portato nel complesso ad identificare circa 1.500 persone controllare 200 veicoli indagare in stato di libertà 11 persone per reati tra i quali danneggiamenti, furti in spiaggia o in abitazione e indagare due minori in stato di arresto colti in flagranza di reato di furto in abitazione in Lignano Pineta. Il responsabile del posto fisso di polizia per tutto il periodo è stato l'ispettore superiore di Ronco che è qui accanto a me e che potrà dare qualche altra indicazione. Rispetto ai reati e rispetto ai reati dello scorso anno ci sono delle dinamiche diverse o tutto rispecchia un po' le stesse situazioni? Le situazioni sono sempre uguali anche perché comunque io a Lignano ho già 5 anni che dirigo l'ufficio e non è stata un escalation assolutamente no c'è stata molto più prevenzione da parte nostra quest'anno siamo riusciti comunque a essere più presenti sul territorio anche perché siamo stati un po' di giorni in più e comunque i reati sono sempre quelli insomma furti in abitazione è il reato più importante anche quello che dà più senso alle persone dà fastidio. Andiamo a Pordenone dove invece sta facendo molto fastidio sta dando molto fastidio soprattutto ai vigili del fuoco il piromane o i più piromani coinvolti in queste attività notturne continua infatti la serie di incendi dei cassonetti dei rifiuti impegnate le squadre dei vigili del fuoco un danno a questo tipo di servizio la notte scorsa gli incendi hanno interessato le zone di Viale Libertà e Via Vallona hanno coinvolto quattro cassonetti tre della carta e uno della plastica tra le 21 e 30 e le 4 di mattina contenitori del genere hanno al loro interno diverso tipo di materiale che può essere anche tossico o cancerogene che quindi impone ai vigili del fuoco l'utilizzo dei dispositivi di protezione come se si trattasse di grandi incendi tra l'altro insomma una situazione che anche priva i cittadini di un servizio utile sul posto per le indagini i carabinieri e la polizia di Pordenone oltre che i vigili del fuoco avvicendamento invece a Gorizia per il nucleo di polizia economico-finanziaria è cambiato il comandante c'è del posto il colonnello Giovanni Sardella invece lo acquista Luca Petrocchi anche lui tenente colonnello e subentra appunto al precedente Sardella dopo tre anni passati a dirigere il nucleo di polizia economico-finanziaria Sardella passerà invece al comando provinciale di Pistoia il tenente colonnello Luca Petrocchi invece arriva da Trieste dove ricopriva l'incarico di comandante del gruppo tutela spesa pubblica e adesso ha raccolto questa eredità andiamo a vedere invece qual è la situazione del commercio in generale dei saldi ormai siamo prossimi alla chiusura di questo periodo vediamo com'è andato un bilancio nazionale saldi di fine estate senza slancio le vendite a prezzi scontati ormai agli sgoccioli in quasi tutta Italia secondo un primo monitoraggio sono pressoché stabili rispetto all'anno scorso e non bastano così a recuperare il flop delle vendite di primavera ma a preoccupare maggiormente i commercianti e il rischio di un aumento dell'IVA che potrebbe tradursi in un nuovo crollo dei consumi a dare una prima indicazione dell'andamento di questi saldi è la federazione Moda Italia l'associazione aderente a Confcommercio che ha fatto un monitoraggio su un panel di imprese commerciali associate l'indagine evidenzia che per il 55% degli operatori le vendite sono stabili o in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno tra i capi maggiormente venduti nell'abbigliamento bermuda, t-shirt, abitini e camicie nelle scelte delle calzature prevalgono sandali, sneakers e scarpe sportive soddisfacente nonostante la concorrenza sleale del web anche la flusso nei nostri negozi commenta il presidente di federazione Moda Italia Renato Borghi che tuttavia chiede di non abbassare la guardia e pretendere che i grandi colossi del web siano assoggettati alle stesse imposte che gravano sul commercio tradizionale Cambiamo argomento adesso spostiamoci a una location tradizionalmente estiva ovvero la piscina siamo in uno dei tanti impianti del nostro territorio c'è per noi Monica Nardini che ci racconta però come funziona il salvamento e quali sono le caratteristiche di questo tipo di attività molto importante a te Monica Sì ben ritrovati mi trovo nella piscina comunale di Buia con Marco Carlini che è coordinatore regionale della federazione italiana nuoto salvamento siamo qui per parlare quindi della figura dell'assistente bagnanti non si può chiamare innanzitutto bagnino mi ha subito corretto vero? Perché? Esatto perché sono due professioni distinte l'assistente bagnanti si occupa della sicurezza in acqua mentre il bagnino si occupa di quello che sono le operazioni spiaggia quindi il trasporto dei lettini e quant'altro Ci troviamo qui perché sono in partenza nel territorio regionale i corsi per l'abilitazione a questa figura in che cosa consiste il percorso formativo? Il percorso formativo consiste in 40 ore di corso frontale tra teoria e pratica abbiamo 30 ore di tirocinio le lezioni si svolgono su tutto il territorio regionale abbiamo dei corsi per ogni provincia qua per la provincia di Udine abbiamo il corso in partenza ad ottobre e quindi le iscrizioni sono aperte Chi può partecipare a questo corso? Possono partecipare tutte le persone che hanno dai 16 anni in su fino a 67 anni che è l'età pensionabile in quanto è un brevetto professionale per sua età pensionabile non si può più tenere Su fronte bagnini quanti se ne contano sul territorio regionale? Ce ne sarebbe bisogno di più? Attualmente abbiamo abbiamo la stagione estiva abbiamo circa 500 assistenti bagnanti operativi durante l'inverno chiaramente diminuiscono perché non abbiamo i litorali e le piscine all'aperto è vero che abbiamo sempre bisogno di nuove leve perché comunque è una professione molto richiesta soprattutto d'estate Resta da includere un pochino più di donne è vero? Perché il percorso di Venezia Giulia se non ricordo male in base ad alcuni dati anche recenti che erano usciti non è molto virtuosa abbiamo circa il 10-15% di donne che fanno questo mestiere quindi insomma io invito le ragazze a fare questo corso perché comunque è un corso stimolante è un corso molto interessante anche perché si imparano molte cose legate anche al primo soccorso Citiamo dunque qualcuna delle materie che saranno proposte Impariamo sicuramente ad utilizzare le manovre di primo soccorso con il defibrillatore quindi viene rilasciato il brevetto per l'uso del defibrillatore e l'attestato di primo soccorso aziendale oltre che chiaramente il brevetto di piscina che poi viene esteso una volta conseguito l'abilitazione della sorveglianza in piscina viene esteso anche al mare Marco rispetto al bilancio di questa estate la tua esperienza come è andata sul fronte dei comportamenti più a rischio c'è un appello che ti va di rilanciare ai nostri telespettatori l'appello a cui a cui a cui io tengo di più è sicuramente l'attenzione ai bambini viene segnalato costantemente dai nostri ragazzi sul territorio che i bambini vengono a volte lasciati un pochettino troppo da soli in acqua purtroppo l'incidenza di annegamenti nei bambini è molto alta al mondo e basta veramente pochissima acqua perché un bambino possa annegare è vero che c'è l'assistente bagnanti però non possiamo avere mille occhi per tutti questi bimbi quindi mi raccomando genitori occhi ai bimbi Marco grazie io colgo l'occasione se abbiamo ancora 30 secondi per avvicinarci a Ennis che è un giovane 21enne che questa è la prima estate ti trovi a fare quindi questa attività come sta andando qua in piscina a Buda? Bene bene questa appunto è la mia prima attività da bagnino ho fatto il brevetto quest'inverno a Uline si sta andando bene ci sono alcune regole che però tu tendi ancora a far rispettare perché c'è qualcuno che è un po' discolo su questo fronte regole intende tuffi mi accennava insomma alcuni comportamenti ancora scorretti esatto ogni piscina ha le sue regole di comportamento i principali sono appunto no tuffi no giocare a palla da fastidio alle persone non si mangia in vasca queste appunto sono le cose più frequenti che devi ricordare alle persone quindi come è molto giovane sei molto giovane è un'attività lavorativa anche interessante perché c'è richiesta in base alla tua esperienza anche in base a questo qual è? la mia esperienza anche lavorativa stai anche guadagnando insomma sì certo appunto io studio e quindi cercavo appunto un lavoro estivo per part time magari così potevo alternare il lavoro agli studi sì sì sei soddisfatto soddisfatto grazie allora anche a Ennis ritorniamo alla linea voi in studio grazie grazie Monica per questo spaccato molto interessante di un'attività lavorativa non solo estiva perché insomma il salvamento e l'aiuto nei confronti delle persone è importante e fondamentale anche durante l'inverno invece adesso torriamo a parlare di calcio avevo ascoltato prima le parole di Pierpaolo Marino ma la Dacia Arena si animerà anche questa sera con la prima partita del Pordenone in Serie B contro il Frosinone e abbiamo ascoltato le parole del tecnico Attilio Tesser che ha voluto descrivere così l'avversario di questa sera io penso che sia a temere tutta la squadra tutti i rifiuti sia a Marcello Troppa che è sicuramente un calciatore importante per questa categoria questo lo dicono i numeri sono numeri importanti ma proprio la qualità del giocatore a vicino ci gioca un certo ciano insomma sta avanti un nuovo mercato adesso stesso Citro con tutti i giocatori di qualità tecnica c'è un mio gioiellino un ragazzino che è Tiatta Milà che è Maiello che è un giocatore che ha avuto la Terrana che è un grandissimo calciatore radiopato da due giocatori storici del Frosinò io l'ho affrontato in tutte le categorie Serie C Serie B i Paglini e i Godi sono giocatori che non dimentichiamoci il Frosinò negli ultimi 4 anni ha fatto 2 anni la B e 2 anni la Serie A cioè promosso retrocesso la Serie A promosso retrocesso e una se non ricordo male col Carpi se era un po' così post-olica che 9 contro 11 hanno perso verso la fine partita se era solo un po' così complicata è una squadra di vertice come squadra come entità sono sempre gli stessi 8, 9, 10 sono sempre gli stessi hanno questo vantaggio loro di conoscerci di giocare a memoria Nesta è il suo secondo partito quindi è offita proprio poi ha tutte le esperienze che tra cacciatore si porta dietro ed è un bagaglio secondo me straordinario non indifferente quel Perù lo scorso anno hanno fatto un buon campionato quel Perù già quest'anno sta guidando una macchina importante e da quello che si viste nel precampionato e nella Coppa Italia la sta conducendo anche molto bene domani devono essere molto bravi noi a fare la della Iada però sta facendo torniamo a parlare di politica d'Italia e anche di notizie internazionali insieme a Lanza e ovviamente a tutte le manovre per cercare un nuovo accordo di governo noi pensiamo e continuo a pensare che in un governo di svolta e di discontinuità la discontinuità debba essere garantita anche da un cambio di persone lo abbiamo detto nella direzione è la posizione che io ho sostenuto ci sono come sapete delle opinioni differenti ma io ribadisco una posizione come ho detto questa mattina anche convinto e su questo dobbiamo lavorare che si troverà una soluzione che dobbiamo trovare però in un confronto reciproco capendoci e interloquendo l'uno con l'altro per capire come garantire questi elementi noi ci impegneremo per trovarla questa soluzione e sono convinto noi faremo di tutto per cercare questa soluzione possibile che non nego a questo punto ancora non si è determinata ma essendo la ruota che gira del tempo prima ora è tempo di aprire il cantiere dei contenuti e delle idee manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi a Hong Kong con un escalation che ha visto non solo schierati per la prima volta due automezzi con i cannoni ad acqua ma anche gli agenti puntare a Tsui Nguan le pistole contro attivisti e giornalisti sparando alcuni colpi di avvertimento verso l'alto secondo i media locali il dodicesimo weekend consecutivo di proteste pro democrazia che da due mesi e mezzo sono in corso a Hong Kong aveva preso via sabato con migliaia di attivisti presenti a dispetto della pioggia alla marcia da qua il pong a Tsui Nguan ad aprire il corteo un grande striscione a ricordare che le cinque richieste importanti sono indispensabili due miliziani hezbollahed uno iraniano uccisi sarebbe questo il bilancio degli attacchi aerei israeliani di ieri vicino la città di Acraba non lontano da Damasco lo rende noto l'ONG osservatorio per i diritti umani in Siria l'esercito israeliano aveva confermato i raid è tutto per questa edizione diamo solo un'occhiata veloce alle previsioni del tempo per quest'oggi c'è un aggiornamento il cielo sarà da variabile a nuvoloso sulla nostra regione e ci saranno probabili temporali dal pomeriggio soprattutto nella zona montana ci sono problemi anche per quel che riguarda la costa ma solamente in serata eventualmente potrebbe esserci anche una situazione di maltempo che potrebbe arrivare anche in pianura e sulla costa diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico in autostrada perché c'è un incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste al chilometro 480 si sono formate quindi delle code proprio in direzione di Trieste tra la Tisana e San Giorgio code anche in direzione di Venezia a causa di traffico intenso tra Villesse e il Bivio A4 e A23 proprio per un altro sinistro al chilometro 498 tra Villesse e Palmanova quindi due piccoli incidenti che in questo momento stanno rallentando il traffico in entrambe le direzioni quindi sia in direzione di Venezia tra Villesse e Palmanova sia a San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste scusate di Venezia invece per quel che riguarda l'altro tratto dell'autostrada con questo noi ci fermiamo grazie per averci seguito l'informazione è ritorno alle 16 buona giornata a San Giorgio per averci seguito